Ciao a tutti, sono Giulia e questo sarà il mio primo video sul mio canale YouTube e vi voglio far vedere la mia prima gara per tutti coloro che stanno facendo la prima gara della loro vita e hanno molta ansia infatti anche io nella mia prima gara, che era questa, la 40, sono andata a vedermi vari video su YouTube e quindi ora vorrò metterla anche io primo salto, barriera, quindi già partiamo che mi ero già, non avevo fatto né netto dal primo salto e quindi parto un po' depressa, non so come dire secondo salto, bene e galoppo, dai, regolare non andavo troppo lenta, va bene poi la mia struttisce mi faceva trottare in ogni curva comunque state tranquilli che non fa niente se fate netto bravisi, anche se fate 4 o qualcos'altro non fa niente tanto avrete tanto tanto altro tempo per andare meglio infatti io dopo questa gara ho fatto tipo 2 rifiuti ma ora sto alle 90 e sto andando veramente bene quindi non pensate che la prima gara faccia il vostro percorso del cavallo diciamo comunque questo non mi ricordo che salto è perché stavo parlando e mi sono disconcentrata però appunto adesso l'ultimo salto e quindi l'unica finalità che ho fatto è stata la prima bene questo percorso è andato bene anche se ho fatto 4 perché comunque è il mio primo percorso e anche il vostro, state tranquilli, andrà benissimo ciao a tutti